Alla fine è stato un tripudio arancio verde con qualche piccola attenzione e molta emozione per un ritorno, quello delle celebrazioni legate al Palio dei Rioni molto sentito, Palio che si contraddistingue come manifestazione di grande suggestione storica. La sfida tra i rioni di Porta Romana, Porta Fiorentina e Cassero ha aperto i giochi come da tradizione e la gara tra sbandieratori e musici ha assunto davvero il sapore di una prima e vera tensione. L'evento è stato vinto da Porta Fiorentina che si è assicurata al trofeo finale molti premi di specialità. Il giudizio della giuria non è stato molto condiviso da Cassero e Porta Romana ma alla fine le tensioni si sono sciolte anche grazie all'attenzione che tutti dalle forze dell'ordine, carabinieri e polizia municipale, agli stessi responsabili dei rioni hanno messo per stemperare. L'emozione più forte è stata quella però legata al Palio. Il drappo è stato mostrato in tutta la sua bellezza. È dedicato come è noto alla Madonna delle Grazie del Rivaio e questa mattina proprio la chiesa della Madonna del Rivaio ha ospitato la benedizione del drappo, Madonna che si ricorda proprio in questi giorni. La settimana comunque sarà intensa. Domenica si corre palio. Nella chiesa del Rivaio dopo la messa ci sarà la benedizione dei cavalli e a Palazzo San Michele la segnatura dei fantini. Nel pomeriggio dalle 15 la lettura del bando ed il corteggio storico per le vie del centro con 500 figuranti, un momento davvero da non perdere anche perché sono tutti in costumi d'epoca. Alle 19 in punto lo scoppio del primo mortaretto segna l'ingresso dei cavalli nel tondo di piazzale Garibaldi. Solo allora sarà Palio e la nostra emittente sarà presente per raccontarvi tutte le emozioni di quella che è una delle manifestazioni più belle sicuramente della regione toscana.